Fuck this shit I'm out Fuck this shit I'm out Sono morto praticamente Ciao Come va? Bene no? Dove sei Golden Toy Freddy? Sei qui, non è vero? Metà dell'ufficio è di Five Nights 1 Metà dell'ufficio è di... Che cavolo è sta roba? Vediamo che... Ah ok Shadow Bonnie Ovvio ovvio Ah la pazzia Ma io mi rifiuto di giocare di nuovo a sta roba Eh beh Aspetta A fun game Che cavolo è? Da Oh ma' Itad Oh ma' Itad Ha love Che cosa sei? Andiamo Sì, ecco No, what the fuck is you? Hello Night one I do not claim ownership of any kind in the Five Nights at Freddy's franchise This is simply a fan-made game, all ownership belongs to Scott Cotton, this is not a replacement to the original of any kind, so please support the original release Disclaimer 2 This game is in its demo fees and does not reflect the quality that will be in the full game, change may occur. Thank you! Soon reopening restaurant, Wolf's Chicken looking for a new night guard. Close down restaurant Wolf's Chicken was recently bought by robe varie, the new company is planning on bringing the restaurant back to life. However, a night guard is needed to watch over the place to ensure safety of the building and the animatronics, yes, yes, yes. Five Night Shift will be provided with somewhat helpful phone call each shift. Ah, qua ti avvisa che ci saranno le robe. Ah, forse possiamo leggere anche le altre robe, la partiamo qua. Il mio nome è Todd e mi piacciono gli spaghetti. La mia serie preferita di fan-made di Five Nights at Freddy's e One Nights at Flampties, perchè è piuttosto strano. Mi piace lo stile e molto divertente e originale. I miei animatronici preferiti sono Foxy, Freddy, Bonnie e Mangor. Mi piace anche Toy Bonnie, Springtrap e Golden Freddy. E anche, ovviamente, l'immagine che ha fatto lui di questo nuovo animatronico. In realtà, io all'inizio odiavo Five Nights at Freddy's perchè iniziavo a vederlo dappertutto e non riesco a leggere. E ho scoperto delle fan-girl di Foxy e Sonic fans were... What? Vabbè, quindi ho pensato che era qualcosa di stupido come ma. Però dopo ho visto il video di Markiplier e mi è iniziato a piacere, roba, roba, roba. Un giorno... No, questo non lo leggo, questo non lo leggo. Allora, la maggior parte degli animatronici in questo gioco sono basati... Ah, da esperienze che ho vissuto con animali impagliati durante la mia infanzia. Ok, stop trying to read this text. I know you will. Ah, maledetto. C'è Springtrap in questo gioco? E possiamo iniziare? Oh, grazie mille. Notte 1. Mario si sta avvicinando a un po' inquietante. Yes, we know we went a little bit off of the usual FNAF knowledge and such, but we cannot find making it. Thanks for playin'! Scott Cotton... Scott Cotton, we love you. You should check the creator's channel. It appears Golden Freddy didn't do anything at all in this game. So remember to rate this game and give us back some feedback! back calaiii fuck this shit i'm out fuck this shit i'm out i'm outing ma basta oh perliz un colpo ahahah ahahah è finato maledetto oddio chi è perchè oddio christian no no ma cazzo ah 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 no 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 ma cazzo ah ah grazie Non ha funzionato Ma no Aspettiamoci un jumpscare, eccolo qua Quanto scommetti che viene il chicken 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 Quale motivo? Nell'anima però Esatto No Parmadetta No 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 GODDAMMIT Fuuuuck GODDAMMIT W U ci Okej Aaaahh La pro Ci man a bot to c- Aquic Eh colo ba La pro Ci m a bot to c- Aaaaaaah apri quell'altro c'è gol del freddo c'è gol del fredda c'è gol del freddo 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 di nuovo qui in giro calm the fuck down mango ti dico e beh arriva sto altro vuole essere la moda ovvio deve essere mel g come me quindi giù freddy fuckboy freddy fuckboy ahahah 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 use my shit ah ah ok ha capito che ha sbagliato durante tutti questi anni ok ha cambiato ho cambiato vita così random ok ahahah ahahah ma silenzio ma questo è facile da capire non mi lascerò manipolare da te ancora fuck you fuck you fuck you king prof be hit with the kid voglio essere la moda con i bambini engage the mango motherfucker mangled mangled ci abbiamo fatto ragazzi mangled sconfitta ok che get fucking fuck you motherfucking motherfucker engage the foxy motherfucker engage the foxy motherfucker puoi morire grazie devi chiederlo con gentilezza se non chiedi con gentilezza non va non va bene o invece no oh il puppet è stato sconfitto oh oh ok forse era un po' esagerato fuck off ma tanto off if there is no key here i'm going to shit if there is no key here i'm going to shit sapevo 1 2 his slain ci abbiamo fatto è stato molto più facile purple man del purple guy vabbè uccidiamo sonic thundersong and the world starts storming proviamola boh io sono call fire che male adesso questo qua mi ammazzerà boh mi ammazzerà vai vai uccidilo nooo ce l'abbiamo fatto ragazzi non siamo morti 3 di livello 4 crap devo correre ripensare ripensare yes renda sempre la mia canzone preferita what does the fox say remix e 8 bit ragazzi potete arcarlo su youtube perchè io l'ho trovato anche non ho detto neanche per sbaglio giusto i ready for not freddy shit trap you fucking rage and bear i know why you got it here so i'm going to help you shit fuckers but first you need me to kill oh phantom whoo whoo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.